E' stato definito un grande atto di civiltà, questo è il protocollo d'intesa firmato in prefettura dai sindaci di Caltanissette e San Cataldo che sancisce la possibilità di far lavorare i migranti ospiti delle comunità, ovvero impiegarli in opere di volontariato. E' stata il prefetto Maria Teresa Cucinotta a promuovere l'iniziativa su proposta dei sindaci. Per noi è un momento importante perché significa veramente fornire uno strumento ancora più serio, concreto per l'integrazione dei migranti. Questa è una realtà, Caltanissetta, San Cataldo, ma devo dire tutta la provincia di Caltanissetta, è una realtà che vede la presenza di un numero cospicuo di migranti che ha sempre accolto in maniera encomiabie con un senso proprio di accoglienza, di volontà proprio di far stare bene queste persone a cui si fornisce uno strumento ancora più avanzato, questo di poter sancire in maniera ordinata e con uno strumento veramente innovativo la possibilità di farli lavorare ridando dignità ai migranti e dando anche la possibilità alla gente di vedere il loro impegno, l'impegno a favore proprio della comunità che li ospita. Caltanissetta è la prima città della Sicilia, capoluogo di provincia a mettere in atto questo strumento di integrazione. Insieme agli enti gestori che sono il centro di Pian del Lago, lo Sprar, il CAS, concorderemo delle iniziative di integrazione reale e quindi di un'attività in prossimità con i cittadini misseni, quindi attività nei quartieri, attività per il decoro dei luoghi del verde, della città ma anche nei luoghi della cultura. A me piacerebbe molto che attraverso il volontariato le persone che sono temporaneamente ospiti della nostra città possano raccontare della loro cultura e possano ricevere conoscenze della nostra cultura perché l'integrazione si fa anche attraverso la musica, si fa attraverso le tradizioni, si fa attraverso la narrazione dei paesi di appartenenza. Nella vicina San Cataldo, che ospita un numeroso gruppo di migranti, il sindaco ha già pronto un progetto per dare corso a quanto stabilito con la firma in prefettura. Adesso con questo protocollo d'intesa si sangisce che i gestori del CAS, del centro di acquiglienza straordinario avranno l'onere della copertura assicurativa e della dotazione dei dispositivi di protezione individuale per questi migranti che su base volontaria volessero attivare dei lavori di pubblico autorità nell'ambito del nostro territorio e questo ci consentirà e ci permetterà di concetto con le varie associazioni presenti nella nostra città e perché no anche con la nostra amministrazione comunale stessa, di poter creare dei presupposti affinché questi giovani presenti possono attivare dei lavori tipo di cura del verde, possono attivare dei lavori di doposcuola di lingua inglese ad esempio possono attivare dei lavori o delle attività diversificate che possono contribuire ad arricchire il nostro territorio. Noi abbiamo sempre voluto evitare che questi giovani non avessero nulla a che fare e quindi bigollerassero per la città senza alcun scopo. Crediamo che in questo momento con questo protocollo ci siano i presupposti affinché anche loro possono passare il loro tempo nell'ambito della nostra città lasciando un segno tangibile della loro presente. È un arricchimento credo per la nostra collettività e credo che nei mesi prossimi ne vedremo subito gli effetti positivi.